Qui con Rigoberto Blanco che è un allenatore che adesso sta lavorando nello staff tecnico della squadra di Panama, amico mio personale, è stato allenatore anche in Italia a Ro e a Bolzano, oltre a dirigere ed essere manager dell'Ovacero della provincia di Lavana. Ok, adesso però parliamo del campionato, vado a fargli alcune domande e poi farò la traduzione. Bueno Rigoberto, dimmi il tuo pensamento sobre il luogo che si va a discutire ora, il terziario e il quarto lugar. Un saluto a tutti quanti tifosi in Italia, è un piacere parlare con mio amico Ruggero, una figura del baseball italiano, anche mondiale. Comunque saluto a tutti. È stato un campionato molto estretto, adesso noi dobbiamo giocare contro l'U.S.A. e stiamo facendola per arrivare nel terzo e prendere la medaglia di bronzo. Penso che la squadra sta bene, sta motivata, i ragazzi sono carico e vogliamo tornare a casa nel terzo del mondo. Volevamo andare con la Coppa Mondiale ma non ce l'abbiamo fatto e penso che i ragazzi hanno mancato un po' l'esperienza e hanno stato un po' insegure. Comunque siamo contenti con il lavoro finale della squadra e sono contento. Un mese fa abbiamo vinto il campionato panamericano e abbiamo fatto superiorità frente a Cuba e nel panamericano a Panama. Siamo contenti del lavoro che facciamo e aspettiamo ancora di più. Molte grazie, non c'è bisogno della traduzione, Ricoberto parla bene italiano, si ricorda l'italiano e insieme adesso salutiamo i nostri tifosi, tifosi italiani e gli amici dello sport. Un saluto a tutti dai vuoti in Giappone. Ciao.